È quello che mettiamo al primo posto nella nostra vita a dirci chi siamo. Noi abbiamo messo al primo posto i nostri valori. Abbiamo creato un luogo che appartiene a tutti, dove siamo liberi di esprimerci senza paura di essere giudicati. Al primo posto abbiamo messo l'indipendenza, la voglia di confrontarci e crearci un'opinione. Al primo posto abbiamo messo la normalità, nella sua forma più alta e profonda. Al primo posto abbiamo messo la credibilità, la forza di chi si costruisce con il lavoro di una vita, accettando e affrontando le sfide. Al primo posto abbiamo messo la qualità della nostra radio, perché per noi ogni secondo del giorno e della notte ha valore. Al primo posto abbiamo messo la voglia di continuare a crescere, respirare e vivere con voi. Ed è per questo che insieme siamo indiscutibilmente al primo posto. RTL 125 è la radio più ascoltata d'Italia. RTL 125. Very. Normal. People.